Allora, stiamo parlando con il Presidente Gerotto di attrattività dal punto di vista naturalmente del costruire, ci sarà un polo ospedaliero di cui lei stava parlando molto importante, questo potrebbe essere estremamente attrattivo se fatto in un certo modo, se quindi va a ricostituire l'assetto anche della città stessa, rendendola accessibile anche. Beh, indubbiamente, Padova è al centro del nostro magico Veneto e quindi per forza di cosa è perfetta, quindi dobbiamo solo migliorare Padova che magari nel corso degli ultimi vent'anni ha dormito un po'. Soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture e delle costruzioni, diamogli una svegliata. Questo che cosa sta, che cosa vuol dire? È bello questa cosa, diamogli una svegliata. Prendiamo l'esempio della fiera, anche lì l'Università investirà sulla nuova facoltà di ingegneria e sarà invitato alla nostra Assemblea un professor Parvonetti che è prorettore al bilancio e ci darà più o meno un'idea di quello che è questa nuova università. Ricordiamoci che ha 800 anni, l'Università di Padova ha sempre portato Padova al centro dell'attenzione europea e noi dobbiamo lavorare su questo per farlo ritornare ancora forte, però i giovani dopo essersi laureati devono restare su Padova, non posso lasciarli scappare. E questo è l'altro aspetto. Come posso fare? Devo pagarli di più, devo dargli degli alloggi che siano decenti, devo dargli una mobilità che non sia quella di stare in coda un'ora ogni giorno alla mattina e un'ora alla sera per andare a lavorare perché vado da un'altra parte dove mi muovo in 15 minuti. Io ogni volta che atterro su Venezia passo sopra Padova, vedo il prato della valle e dico oi boh, che bello, poi vedo campanili, fabbriche, strade. Abbiamo un sistema che è difficile da cambiare, però dobbiamo interconnettere alla massima velocità tutti i vari caparnoni, le zone industriali, abbiamo tanto lavoro da fare sicuramente nella rigenerazione urbana, però dobbiamo andare un po' più veloci dal punto di vista normativo e anche dal punto di vista ideologico, se no veramente il Veneto e Padova non lo cambieremo mai. Tutta la zona al nord del Veneto correrà a 300 km all'ora perché c'è la nuova pedemontana. E Padova che ha ancora una tratta su Bologna fatta nel 1950 dove non ci sono neanche le zone di sosta. È terribile vedere quello che sta succedendo anche in direzione Trieste. Va tutto bene? No. No, però ci stiamo lavorando e su Padova sono appena atterrati anche i soldi del PNRR e vedrete che con la nuova situazione del tram ci sarà sicuramente uno sconvolgimento della mobilità. Io e i figli che prendono il tram sostanzialmente tutti i giorni e anche l'autobus. Io non sono né pro né contro, io sono pro le cose fatte bene, altrimenti buttiamo via i soldi come delle opere che sto venendo e che sappiamo molto bene come la piscina di Selvazzano o come altri esempi su Padova che sono ancora in via di definizione. E infatti quello che sorprende lei ha detto rapidità che è una cosa fondamentale la possibilità di essere rapidi nel costruire adesso c'è anche perché le modalità costruttive, lei accennava prima alla formazione, alla progettazione, ci sono tutte. Abbiamo visto l'accelerata che si è data la stessa, è inutile prendere l'esempio di Milano però Milano è italiana, quindi non stiamo parlando di Germania o di altre realtà Milano è Italia con le stesse problematiche, con tutto quello che ne connette, nel bene e nel male. Sono riuscite a fare in breve tempo, stanno costruendo altri poli, insediamenti abitativi e produttivi straordinari anche nel centro stesso della città, quindi con tutti i limiti è possibile che la stessa cosa non sia riportabile alla città di Padova. Ho fatto un esempio perché è stato recentissimamente ma ce ne sono tanti altri. Cioè bisogna dare una veste diversa. C'è un messaggio che è arrivato, vi do subito la parola, un attimo solo che leggiamo questo messaggio vediamo se la regia... eccolo qua. Buongiorno Elena, vorrei sapere perché il fotovoltaico non sia inserito di default nella costruzione delle nuove case anziché una spesa a parte dovrebbe essere un obbligo se dobbiamo andare verso una sostenibilità completa. Grazie. Capito il fotovoltaico da Polonia. Direi che questo è un percorso che si sta affrontando. Negli ultimi due anni c'è stata una complessità normativa che ha messo a dura prova tutti i vari uffici. Di fatto il 110 con quello che è successo ha dato veramente una svolta, ha fatto capire che le proprie case anche di 40 anni possono diventare delle case veramente attuali. ci si può scaldare con poche decine di euro al mese adesso dopo un intervento 110. Di fatto il fotovoltaico è alla base di quello che è una ristrutturazione soprattutto della parte del tetto perché non basta solo mettere il fotovoltaico ma bisogna anche pensare al locale tecnico magari dove mettere le batterie perché un fotovoltaico adesso senza batterie ha anche poco senso visto quel poco che ti pagano e quella che è una cosa intelligente è anche andare a rifare il tetto magari con delle tecnologie nuove che avranno anche sicuramente meno manutenzioni per poi ripensare magari il cappotto sì cappotto no dipende dalla casa se ha una pietra faccia vista oppure no il cappotto va fatto a regola d'arte se no si stacca e esempi ce ne sono dalla seratura ormai però l'impianto termico tipo la caldaia e tutto il riscaldamento e soprattutto la parte dei seramenti io la reputo una cosa fondamentale parlate sempre con chi ha avuto la fortuna di chiudere il 110 e vi troverete la risposta senza tanta retorica questa è la cosa importante quello che noi adesso stiamo spingendo come ance e vedrete che il governo perlomeno recepirà quelle che sono le normative sia dal punto di vista fiscale e vi ricordo tutte le puntate fatte con il signor dottor Cortellazzo sia dal punto di vista fattivo ci sarà un 110 un super bonus che probabilmente sarà strutturare negli anni 5-10 anni all'80% dove probabilmente la famiglia dovrà spendere un po' di soldi però saranno soldi che investirà per il proprio futuro per dare come minimo altri 20-40 anni di futuro a delle case che adesso sono veramente, le vediamo con una, sono già vecchie quando le vediamo infatti, ecco da quel punto di vista rapidità si rilascia la domanda che le stavo facendo prima rispetto ad altre realtà perché qui siamo molto lenti? Cosa c'è? La burocrazia troppo stringente? Un'amministrazione di un comune, dei comuni che funziona? Allora nei confronti di Milano io ero stanotte a Milano ho la fortuna di avere dei ragazzi giovani e portarli i concerti e ogni volta vedo che c'è il parcheggio ci sono strutture veramente innovative, ci sono i taxi e lì hanno avuto una continuità una continuità soprattutto dal punto di vista di mentalità e ideologia politica che ha permesso che le cose succedessero quindi anche se il comune cambiava colore politico l'amministrazione comunque determinati tipi di progetti sono andati avanti io mi riferisco per esempio al progetto che è stato fatto in Fiera in Fiera a Milano, un progetto mega, bellissimo, affascinante al centro un asilo ecco sostenibile e soprattutto a dimensione di bambino ovviamente e a disposizione di chi abitava attorno dei palazzi fatti per diversi centri sociali con un'attrattività veramente da paura questo è stato un investimento fatto con dei fondi di investimento con delle SICA adesso però Milano non è più attrattiva per questi fondi di investimento è più attrattiva Padova è più attrattiva Firenze, Verona perché hanno visto che da noi essendo città di secondo livello probabilmente le giovani coppie i ragazzi giovani riescono ad avere una vita dell'aria una qualità dell'aria più gradevole ed avere soprattutto un futuro fatto su fabbriche che sono con una vicinanza minore quello più che altro proprio qualità dell'aria Padova è prima in Italia dovrà lavorare tantissimo proprio prima nel disastro totale supera Milano e Torino queste sono le gambiente se a Milano mancassero i mezzi pubblici la città si bloccherebbe è una questione di mentalità da noi anche per andare a scuola le mamme prendono la macchina è un dato di fatto i mezzi per il sistema di viabilità pubblico su gomma peraltro sulle stesse strade dove vanno anche le macchine e che macchine e che macchine, esatto quindi io credo che il car sharing soprattutto a Padova io dico io che tutti i bambini da portare tutte le mattine lo vivo proprio questo sms tutti i giorni purtroppo è la verità ma è sempre un genitore anche lei è un genitore non è un ente terzo per cui è sempre un genitore che si prodiga anche per altri per i propri bambini per portarli qualcuno questo sforzo deve farlo Padova è attraversata da fiumi che purtroppo necessitano di ponti per essere attraversati l'amministrazione ha dei progetti in cassetto molto interessanti ormai da anni ovviamente il prezzo è già troppo basso per essere per essere fatto quindi non sono appetibili però bisogna mettere d'accordo tutti i comuni bisogna mettere d'accordo dopo e sperando che non ci siano ricorsi al Tarra tutti i vari movimenti e questo provoca lentezze provoca giorni persi a leggere le sentenze e chi deve firmare ovviamente vive con uno stato di ansia e di paura e quindi dove va l'Italia in questo modo ci deve essere una persona che decide e si va avanti come treni se no Padova resterà quella che abbiamo visto fino adesso con tutto rispetto per le persone per le Silver Age cioè per chi ha qualche anno in più di me pensate ai giovani più che pensare a voi cerca a te di lavorare in un qualcosa di diverso creiamo delle case per anziani che siano al di fuori dal centro che siano più gestibili e lasciamo ai giovani la possibilità anche di fare degli errori però fategli fare questi percorsi assolutamente altra parte se una persona che a una certa età governa determinati ambiti non si può pensare che le cose vadano veloci perché non ha neanche la forma mentis di vedere oltre insomma cioè obiettivamente terrà tutto indietro a rilento se lei se lei ha la fortuna di andare a Copenaghen andrà a sciare sopra il termovalorizzatore che è identico a quello di Padova ma perché lì riusciamo a fare delle cose e qua non riusciamo a comunicare che il termovalorizzatore va ingrandito va riformato lei ha detto riusciamo a comunicare ha toccato un aspetto importante quello forse è un'altra questione padovana ma anche veneta di comunicare ne abbiamo sempre detto e resta sempre un aspetto determinante torniamo su questi punti dopo la pubblicità tra poco